Musica Mi chiamo Massimiliano Vock, ho 40 anni, faccio Penciaxilat dal 2011, prima ho fatto 6 anni di box e prima ancora 2 anni di karate, prima atletica. Musica Cosa ne pensi del corso di formazione che stai frequentando? Allora, è molto vario, è denso di contenuti, a livello tecnico abbiamo moltissime cose che sono da sviluppare, da studiare, è molto impegnativo. Musica E dal punto di vista emozionale, tipo spirito di gruppo, rapporto fra i compagni di allenamento, E vederlo qua, insomma, il gruppo è molto coeso ed è una famiglia, siamo fratelli. Ok, cosa ne pensi del maestro? Lui è mia sorella, ha i capelli lunghi. Cosa ne pensi del maestro? È il nostro papà. Quindi una grande famiglia? Sì. Musica Musica